Scoperto un nascondiglio di Matteo Messina Denaro durante la perquisizione che la polizia ha effettuato nel Trapanese nell'ambito delle indagini per la cattura del boss latitante. Un passo avanti dunque in una cattura che a questo punto appare sempre più vicina. Gli inquirenti non danno particolari sulla scoperta del covo fatta mentre cercavano tracce del padrino di Castelvetrano. Gli agenti hanno passato al setaccio abitazioni, case rurali, locali, magazzini di persone ritenute vicine al capo mafia di Castelvetrano. Si continua dunque a stringere il cerchio attorno ai fencheggiatori di Matteo Messina Denaro. Perquisizioni da parte della polizia disposte dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo in diversi comuni della provincia di Trapani. Complessivamente sono 17 gli indagati della nuova inchiesta, fra questi anche un medico o un imprenditore. Si tratta di Francesco Burrafato, 76 anni, ex primario di chirurgia dell'ospedale di Castelvetrano, a cui sono stati sequestrati un pc e un tablet. Denunciato anche l'imprenditore Marco Giovanni Adamo. La DIA in passato gli ha sequestrato beni per oltre 5 milioni di euro. I boss di Castelvetrano sono stati intercettati nelle campagne del Trapanese, mentre nascondono i pizzini destinati alla primura rossa di Castelvetrano. E proprio nel paese di Messina Denaro sono partite le perquisizioni da parte degli agenti, che si sono poi estese a Mazzara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Sala Paruta e Campobello di Mazzara. L'obiettivo? Quello di colpire la rete di fiancheggiatori del Super Boss e raccogliere ulteriori elementi utili alla sua cattura. Nella lista degli indagati ci sono persone anche storicamente. Sono state in stretti rapporti con Messina Denaro. Ora la DDA di Palermo, su segnalazione della polizia, le ha sottoposti ad una nuova indagine perché sospettati di agevolare la latitanza del capo mafia.